Allora, appena ho avuto il volume tra le mani, pensavo che Isabella di Francia fosse poco nota in Italia e particolarmente a me, che non sono, come vi ho detto, una francescanista. Ma dalla bella introduzione di Senfield ho appreso che neppure nella sua terra natale Isabella aveva ricevuto una grande attenzione, eppure aveva tutte le carte in regola per poter divenire quasi un'eroina nazionale, come le due nobidonne contemporanee, già appunto nominate, che affascinate dall'esempio di Francesco avevano abbandonato le loro ricchezze e il loro status sociale per vivere religiosamente in clausura o nel secolo. La principessa Agnese di Praga è la figlia del re d'Ungheria, Elisabetta. Agnese fondò in Bohemia il primo convento di frati minori e poco dopo un monastero di monache clarisse. Elisabetta, divenuta vedova, appena ventenne e con tre figli, non volle risposarsi e visse invece come penitente, spendendo la sua dote per la costruzione di un ospedale e curando, e la stessa, gli ammalati. Entrambe venerate dal popolo, Elisabetta fu proclamata santa nel 1235, quattro anni dopo la morte, e Agnese dovette invece attendere secoli, come è già stato detto, il riconoscimento papale della santità. Ma la fama di beate ed eroine nazionali rimase costante nella memoria dei loro popoli e le tenne in vita. Quindi Elisabetta e Agnese ebbero in fondo una vita più lunga o almeno un riconoscimento più lungo nella loro patria. Non fu così per Isabella di Francia, forse offuscata dalla fama del fratello Luigi, il crociato, il riformatore e il santo, o emarginata perché è troppo libera, perché visse sempre fuori dagli schemi. Sono domande a cui gli storici non potranno dare una risposta documentaria, ma che possono sempre porsi come interrogativo per tentare di comprendere il silenzio della nazione e il riconoscimento tardivo della sua santità. Isabella fu infatti proclamata beata da Lione X nel 1521, ben tre secoli dopo la sua morte. Queste domande a cui accennavo prima se le pongono anche gli autori del libro di cui parliamo questa sera e non potendo dare una risposta fanno quello che debbono fare i grandi storici. Ci offrono una notevole quantità di documenti affinché ciascuno di noi possa conoscere Isabella e farsi un'idea personale. Come vi è già stato detto, appunto, il volume è composto di due parti. La prima introduce il lettore a comprendere il contesto storico e culturale in cui visse Isabella di Francia e la seconda presenta una raccolta di documenti attinenti la vita e le opere, in particolare l'istituzione delle sorores minores incluse, la più importante delle sue realizzazioni. Anche gli autori del libro sono già stati presentati, storici famosi, profondi conoscitori di Santa Chiara e delle Clarisse dei primi secoli. Jacques Dallarand si segnala per l'attenzione da lui sempre prestata a figure femminili dell'ordine francescano, come Chiara da Rimini, ma anche a donne che attorneavano e seguivano Francesco e poi naturalmente le grandi edizioni di fonti e tutti i lavori di Jacques di cui si è parlato prima. Sinfield è il massimo studioso di Isabella, come è già stato detto. A lui si deve un'importante monografia sulle donne cappetinge dopo una lunga serie di articoli che hanno portato in luce molti documenti sconosciuti su Isabella. Marco Bartoli, inutile presentarlo, ma sappiamo appunto che è il massimo studioso di Chiara e dei suoi scritti. È con la guida di questi autori che anche noi cerchiamo di penetrare nel mondo della figlia di Luigi VIII e Bianca di Castiglia, privilegiando il riferimento ai documenti pubblicati nel volume. Conosciamo la principessa cappetinge, ma anche questo è già in qualche modo stato detto, attraverso la vita della beata Isabella di Agnese di Alcour, l'ultimo dei documenti pubblicati in questo volume. Scritto una quindicina d'anni dopo la morte della principessa, questo testo è notevole per molti motivi. Pur non essendo esente da intenti ageografici, è una fonte attendibile dal punto di vista biografico perché l'autrice, come già stato detto, appartenente alla nobiltà normanna, era stata dama di compagnia di Isabella e ne aveva condiviso la giovinezza per poi seguirla anche nel suo percorso religioso. Inoltre, è la prima vita di una donna scritta da un'altra donna, direttamente in francese senza ricorrere a un modello latino. Il testo è vergato ordinatamente in due parti. La prima... La prima ha fonte narrativa e ripercorre in ordine cronologico l'esistenza di Isabella. La seconda parte riporta 40 miracoli attribuiti alla principessa. Mi sembra interessante anche molto il supporto materiale del documento. Il testo, infatti, è stato scritto su foglie di pergamena cuciti insieme e poi piegati a rotolo. Il prologo e i primi paragrafi sono stati probabilmente aggiunti alla fine del lavoro. Ripeto quanto dice Field, che ha studiato appunto queste cose. E si sono rivelati un adattamento da una leggenda di Elisabetta di Ungheria, quasi a sottolineare la continuità fra due donne di sangue reale, ma presumibilmente anche per dare maggiore autorevolezza alla vita di Isabella, esemplata su quella di una santa appena canonizzata. Ricerche recenti hanno inoltre mostrato che nella vita di Agnese e di Arcurvi sono prestiti di una vita di Santa Chiara in francese antico. Quindi questo è molto interessante perché appunto significa che già una vita tradotta di Chiara era stata conosciuta in Francia a pochissimi anni dalla sua morte. A Agnese impariamo che Isabella era bella e colta e che oltre all'apprendimento del latino e alla lettura della Sacra Scrittura trascorreva le sue giornate in silenzio dedicandosi al lavoro della sete e del cucito. La mamma amava vestirla elegantemente, si dice una biografia di donne, e la educava in vista del matrimonio. I genitori l'avevano destinata in sposa a Corrado, figlio dell'imperatore Federico II, ma Isabella rifiutò lasciando intendere che voleva vivere in verginità. Infatti, dopo la morte della madre e con il sostegno del fratello divenuto re, decise di dedicare la sua vita alla cura dei poveri e dei malati e di impiegare la sua dote per la costruzione di un monastero. Prima del 1254, Isabella, come la madre e il fratello, erano spiritualmente vicine all'ordine cistercense, ma in quell'anno Isabella ricevette la lettera trattato di Gilberto di Tournée e attuò quella che Phil chiama la svolta francescana, che poi la principessa seguì fino alla morte. Gilberto era stato maestro delle arti all'Università di Parigi prima di entrare nell'ordine francescano. Acquisì poi il dottorato in teologia e insegnò nello studium dell'ordine francescano a Parigi. Nell'epistola spirituale, che segue di un anno un'altra lettera di Papa Innocenzo IV che invitava la principessa a consacrare la sua verginità con un voto, il teologo francescano esprime il medesimo auspicio indirizzando ad Isabella un'esposizione del Salmo 44 e dandone un'interpretazione mistica. Nel commentare il versetto «Tutta la gloria di questa figlia del re viene dall'interno in frange d'oro avvolta nella varietà, Gilberto distingue cinque parti l'eredità celeste, la purezza, la verginità, l'umiltà e la condotta onesta della figlia del re». Alla figlia di un re aspettano infatti vesti regali «La gloria che viene da dentro indica purezza interiore con l'oro si esprime la verginità elibata con frange l'umiltà con il contorno della varietà la bellezza esterna e l'umiltà Per conquistare il regno di Dio la figlia del re deve compiere un cammino distinto in cinque passi ciascuno dei quali in dieci passi scusate ciascuno dei quali è volto a superare un ostacolo un ostacolo che allontana da Dio e ad avvicinarsi invece al regno dei cieli segue poi un ornamento della figlia del re che non consistono in cose esteriori ma piuttosto nella purezza del cuore nella testimonianza della coscienza è interessante l'ultima parte in cui Gilberto rivela il significato simbolico degli ornamenti menzionati nel versetto 44 la frangia d'oro è la perfetta umiltà cui si congiunge strettamente la verginità il trattato prosegue con un lungo elogio della verginità i cui ornamenti sono la corona d'oro la veste divino e porpora il velo e l'anello ossia i segni simbolici del matrimonio ma anche del rito della consacrazione delle vergini quindi l'epistola spirituale si conclude con una chiara esortazione ad Isabella di prendere i voti quindi Gilberto si allinea con il papa e vorrebbero tutti che prendesse i voti ma qual era in quel momento lo stato di vita della principessa Capetingia dopo il rifiuto del matrimonio con Corrado Isabella perseverò nel proposito di non sposarsi ma non vole neppure diventare monaca eppure la sua fondazione di un monastero femminile di ispirazione francescana in un ampio luogo nei pressi di Parigi stava per essere avviata infatti nell'aprile 1255 un anno dopo appunto queste lettere venne acquistata una parte del terreno destinata alla fondazione e appunto nell'insieme dei documenti che noi abbiamo di una grande ricchezza è molto interessante che non ci sono solo i documenti di carattere spirituale diciamo o la regola eccetera ma ci sono anche i propri documenti della fondazione lettere papali quindi questo libro ci introduce veramente nella parte storica insomma di queste vicende e quindi lei rimane comunque vergine e vive al di fuori del monastero stesso l'anno successivo il Papa Alessandro IV indirizzò a Isabella la lettera benedicta figlia tu che conteneva un lungo elogio dei progressi spirituali della principessa che avrebbero suscitato emulazione da parte di altri giovani e lo dava anche la sua vicinanza all'ordine dei frati minori nella lettera non si faceva menzione del progetto della fondazione ma la sua conoscenza e la sua approvazione da parte del pontefice era implicita nello stesso anno infatti Luigi IX pose la prima pietra della fabbrica del monastero che sarebbe stata intitolata nostra signora dell'umiltà eretta secondo gli antichi meccanismi di fondazione familiare l'abbazia reale di Longchamp doveva contribuire a plasmare una memoria sacra dinastica ma Isabella volle comunque inserire la sua comunità nell'orbita francescana del resto sono ben noti gli stretti regami di Luigi di re Luigi con i mendicanti sin dagli anni trenta del secolo tredicesimo i nuovi ordini avevano avuto un ruolo di peso a corte grazie alla presenza di alcuni illustri dottori degli studi a Parigini che seppero contribuire al meglio cogliere al meglio le opportunità offerte da un'assidua relazione con il principe essi contribuirono infatti con i loro trattati a sfondo etico-politico e in occasione delle loro prediche a corte alla costruzione di una nuova immagine della regalità ottennero cariche presso la cappella regia e si intromisero spesso in questioni di organizzazione amministrativa e di natura più propriamente politica attraverso il monopolio della parola sia scritta che orale seppero guadagnarsi presso il re una posizione di particolare fiducia divenendone consiglieri confidenti e confessori per singolare concessione del papa il sovrano e i membri della sua famiglia avevano infatti la facoltà di scegliere il proprio direttore di coscienza che era appunto quasi sempre francescano appena terminata la costruzione dell'abbazia Isabella si attivò immediatamente per dare una legislazione alla sua fondazione ecco anche qui abbiamo ben entrambe le due regole che io non vi leggo ma che vi riassumerò brevemente per farvi capire appunto tutto l'iter complesso della legislazione che si riferisce a questa fondazione la letteratura francescana ha per lungo tempo attribuito la regola a San Buonaventura ma non c'è ragione di postulare una mano maschile nella stesura della regola Isabella era un'ottima latinista e poteva controllare se quanto scritto corrispondeva le sue disposizioni quindi se anche qualche segretario o qualche compilatore avesse appunto fatto una prima stesura sicuramente siamo certi che Isabella poteva controllare e dunque per questa ragione appunto si può dire che Isabella di Francia sia stata la prima donna a scrivere una regola monastica questa affermazione contrasta con la convinzione soprattutto italiana che sia stata Santa Chiara la prima donna a scrivere una regola in realtà questa convinzione cade se si pensa che giuridicamente quella di Chiara deve definirsi forma vite e non regola come lei stessa scriveva e come di fatto non poteva essere altrimenti in relazione alla disposizione del concilio vaticano scusate del concilio lateranense quarto del 1215 e che aveva vietato la proliferazione degli ordini religiosi prescrivendo che ogni nuova fondazione monastica assumesse una delle regole già esistenti Isabella di Francia dovette infatti richiedere una dispensa per poter definire regola il suo ordinamento legislativo devo sempre questa informazione a Field questo nuovo testamento formulato da Isabella questo nuovo testo formulato da Isabella di Francia assume come base la regola innocenziana del 1247 molto vicino alla forma vite di Gregorio IX per l'ordine di San Damiano ma contiene anche numerose differenze le modifiche riguardano soprattutto l'abbigliamento il digiuno il silenzio l'ingresso in monastero che possono anche mutare a descrizione della badessa vi è però un elemento innovativo di grande peso l'obbligo della clausura rafforzato da un voto di clausura perpetua Isabella non aveva tuttavia ottenuto l'approvazione del suo più grande desiderio quello di intitolare il suo ordine sorores minores per essere speculare a fratres minores Alessandro IV impose invece il titolo sorelle dell'ordine delle umili serve della beata vergine Maria titolo che richiamava quello del monastero stesso di Longchamp che si chiamava monastero dell'umiltà della beata vergine Maria non avendo fatto concessioni circa l'intitolazione francescana dell'ordine il papa cedette infine nel ruolo che i francescani avrebbero avuto nella direzione spirituale dell'ordine del monastero di Longchamp infatti i francescani avrebbero avuto la direzione spirituale del monastero nella regola si prescrive che i visitatori dell'ordine devono essere soltanto francescani e soltanto designati dal ministro generale le visite devono essere brevi e il visitatore deve tener conto anche dei problemi dei frati che vivono in monastero come confessori infine questa regola prescrive di mantenere accuratamente il segreto su quanto ha preso nella visita e di bruciare alla presenza delle sorelle tutti gli appunti eventualmente presi queste brevi note sono sufficienti a mettere in evidenza la non conformità di questa regola con la legislazione francescana soprattutto in relazione alla questione della povertà Isabella accettò infatti il possesso di beni per la cui amministrazione venne addirittura istituito l'ufficio del procuratore la sua spiritualità non era incentrata sulla povertà materiale ma sull'umiltà cioè sulla povertà di spirito opposta all'orgoglio aristocratico e nobiliare e fece dell'umiltà della vergine la virtù principale ottenuta l'approvazione di questa regola nel 1259 la concessione di diversi privilegi che accentuavano il carattere di Longchamp come Eigencloister ossia un monastero sotto la giurisdizione di una famiglia reale o nobiliare Isabella di Francia non poteva ancora dirsi soddisfatta la maggiore ispirazione era infatti il riconoscimento del suo ordine come francescano con l'intitolazione di Sorores Minores perché i papi si opponevano fermamente a questo titolo tutto si deve allo sviluppo tumultuoso dei movimenti della penitenza fra XII e XIII secolo come già stato accennato anche prima dove la componente femminile era molto alta nel 2016 Jacques de Vitry in visita in Italia attestava la proliferazione di Sorores Minores che vivevano fuori città ma senza una regola molto spesso questi gruppi non avevano neppure un legame diretto con i frati minori tuttavia si temeva che il loro nome e la loro irregolarità dessero discredito al giovane ordine di San Francesco ecco dunque la ritrosia dei frati ad accettare un ordine femminile e anche l'impegno costante del papato a regolarizzare questi movimenti e a obbligarli alla clausura per Isabella di Francia tuttavia il nome era strettamente legato all'identità francescana della sua fondazione avviò così una revisione della regola appena approvata del 59 per accentuare il legame con l'ordine di Francesco per esempio la nuova versione prevedeva che i confessori fossero frati minori e che dovessero risiedere nell'abazia si eliminava inoltre l'ufficio del cappellano che avrebbe potuto essere un chierico esterno all'ordine e si accentuavano i compiti del confessore anche il titolo dell'ordine mutò e finalmente le monache di Longchamp poterono essere chiamate sorores minores con la posizione incluse per resto Isabella fin da principio aveva già come vi ho detto prima accentuato il valore della clausura addirittura rafforzandola con un voto allora questa nuova regola venne approvata da Urbano IV nel 1263 un anno particolarmente positivo dal punto di vista politico perché il papa aveva anche stretto un accordo con il fratello minore di Isabella Carlo D'Angio per la riconquista del regno di Sicilia ma lo stesso 1263 fu un anno positivo anche per il movimento francescano femminile dopo la morte di Alessandro IV i frati minori avevano fatto pressioni per essere sollevati dalla cura delle case dell'ordine di San Damiano quelle appunto che erano le prime case dell'ordine dominità alla fine del 1262 e all'inizio del 1263 Urbano IV si accordò con San Bonaventura e con il cardinale Orsini divenuto protettore degli uomini e delle donne dell'ordine francescano si accordò dunque per redigere una nuova regola per le donne questa giunse a compimento nell'ottobre del 1263 tre mesi dopo l'approvazione della regola di Isabella di Francia la nuova forma vite cambiò l'ordine di San Damiano in ordine di Santa Chiara e appunto nonostante il nome questo nuovo testo legislativo non si ispirava alla forma vite di Chiara del 1253 ma si connetteva sempre a quella di Innocenzo IV del 1247 a sua volta basata su quella di Ugolino del 1219 cioè questo soprattutto in relazione al problema della povertà come voi sapete questa regola di Santa Chiara di Urbano IV permetteva appunto il possesso dei beni comuni diversa era anche l'impostazione delle due regole in relazione al rapporto con i frati minori mentre Isabella aveva ottenuto un legame più stretto attraverso i confessori e i visitatori nella regola dell'ordine di Santa Chiara approvata da Urbano IV era il cardinal protettore e non il ministro dell'ordine ad avere la massima autorità sulle sorelle e i visitatori e i confessori non erano necessariamente dell'ordine ritenendo San Buonaventura che i frati dovessero essere liberi nell'accettare o meno la cura delle monache pur in presenza di due regole coeve nel movimento francescano femminile europeo prevalse la forma di vita dell'ordine di Santa Chiara nella elaborazione urbaniana le sorores minores incluse si diffusero in Francia nei monasteri reali e in Inghilterra penetrò anche in Italia nel chiostro romano di San Lorenzo in Capite della famiglia Colonna spessa alleata con i Capetingi e in due monasteri napoletani un'istituzione francescana trecentesca che adottò la regola di Isabella di Francia viene infine retta a Bologna ma non sappiamo ancora la diffusione di fatto di questa regola ci sono ancora stati studi particolari sulle fondazioni italiane della regola di Isabella quel che è certo è che la principessa francese fece di tutto per far conoscere la sua istituzione ottene infatti dal fratello Luigi il dono di preziose reliquie portate da Gerusalemme un bel pezzo di croce del legno della croce e una spina della corona con cui fu cinto il signore certamente le indulgenze ottenute insieme alle reliquie condussero diversi fedeli alla bastia di Longchamp ma forse più donne vi sarebbero entrate se la sorella del re di Francia avesse fatto il suo ingresso nell'istituto prendendo i voti invece Isabella non entrò mai nell'ordine che aveva creato e condusse la sua vita in una casa appunto fuori dall'abbazia il suo corpo però vi sarebbe entrato al momento della sepoltura ricongiungendosi con i genitori e i parenti per cui aveva ottenuto il privilegio di ingresso appunto facendo di Longchamp una abazia dinastica è stata un po' noiosa però mi hanno insegnato che le regole sono importanti grazie grazie